buonasera buonasera amici io stasera sono qui perché questa emergenza del coronavirus pone due aspetti del problema molto molto importanti da un lato c'è l'aspetto medico del quale io però farei parlare gli esperti gente come burioni laria capua dj francesco chef rubio ecco questi sono i veri esperti invece invece c'è un problema c'è un problema più sociale legato alla psicosi per il quale mi si chiede di dare consigli pratici alla popolazione allora iniziamo prima cosa sulla psicosi evitate i luoghi affollati mi chiedono posso andare a un concerto di gabbani no troppo affollato posso andare a vedere la finale del torneo di bocce di ladispoli no ancora troppo affollato posso andare a una riunione d'italia viva sì lì ci puoi andare che tanto non c'è nessuno seconda cosa seconda cosa importante le scorte di amuchina amuchina vi dico solo una cosa ieri ho fatto il rogito perché ho preso un box auto e il venditore non ha voluto i soldi ma 40 boccette da amuchina ma io ma io vi do un consiglio prendete nota come fare la mucina in casa ho appena sentito il virologo burioni che mi ha confermato che la mucina si fa col guanciale e non con la pancetta ok questa è la prima cosa fondamentale gli ingredienti base ingredienti base per la mucina sono acqua ossigenata alcol glicerina acqua distillata capisco che non è facile avere tutto se non avete l'alcol però potete usare anche il limoncello ok l'altro l'altro aspetto della psicosi gli italiani gli italiani stanno svaliggiando i supermercati ma la cosa ha preso una piega non non bella perché oltre ai supermercati cominciano a svaliggiare anche le casse dei supermercati vi do un consiglio se al supermercato non trovate niente non portate via i carrelli ho saputo uno di vicino lodi che si è portata a casa otto carrelli vuoti non ha senso non ha senso non ha senso l'altro aspetto importante che la gente è costretta a stare a casa perché tanto hanno annullato tutte le manifestazioni chiusi cinema i teatri musei concerti ma per questo io ho la soluzione ho istituito un numero verde ve lo do 800 500 700 400 voi mi chiamate e io vi racconto ciò che avete perso il problema è che poco fa mi ha chiamato uno di milano che non è potuto andare al concerto di elettra lamborghini e voleva che glielo raccontassi io non ho mica dovuto tuercare al telefono tutto il tempo così e tuerca e tuerca ultima cosa un consiglio quando starnutite non starnutite sulle mani ma sul gomito così ancora meglio starnutitevi sul tallone così ve la calate le notizie di domanda